per cui diamo adesso l'inizio al terzo dei video in questo caso non avrete di fronte il mio faccione più di tanto perché è composto da documenti ufficiali mail e pecker inviate da avvocati istituzioni ricevute da istituzioni ambasciate e che dimostrano in toto quelle che sono le responsabilità fino ad oggi anche omissive da parte di tanti soggetti sia di qua che di là dal confine che molto probabilmente certe cose avrebbero dovuto denunciarle come già detto anche all'unione europea e al consiglio d'europa ma a quanto pare ancora non l'hanno fatto questa è la comunicazione ufficiale ricevuta dal sottoscritto dal direttore generale della direzione generale affari ue della farnesina in cui oltre a garantire l'interesse sul caso si scrive al sottoscritto sarà senz'altro utile continuare a tenere il raccordo sia con la nostra ambasciata a san marino sia con i suoi legali a san marino e in italia questo è stato fatto ma il problema diciamo è che l'ambasciata dall'avvento del nuovo plenipotenziario risposte al sottoscritto che dovrebbe essere colui che è autorizzato a mantenere i collegamenti non ne sono state date nemmeno una per iscritto ma per la verità neanche per telefono sarà normale toccherà agire denunciando per omissione per mancate risposte viste le leggi relative alle risposte dovute dalla pubblica amministrazione a questo punto cominciamo con qualche documento ufficiale istituzionale della repubblica di san marino dove per esempio il segretario particolare del allora segretario di stato agli esteri e giustizia nicola renzi avvisava l'ambasciatore italiano che il dirigente del tribunale era stato incaricato di approfondire cercare di addivenire ad una soluzione relativamente al caso in questione come vedremo più avanti purtroppo questo pare non fosse vero visto che lo stesso professor guzzetta di fronte a vicario amerini dell'ambasciata d'italia due avvocati del sottoscritto come già detto nei video precedenti asseri di non avere avuto nessun tipo di fascicolo e nessun tipo di indicazione aggiungendo inoltre che ovviamente lui non era comunque la persona indicata a ricevere determinati tipi di informazioni in quanto era soltanto dirigente che poi questo sia un tentativo di schivare responsabilità o meno lo decideranno le autorità di qua o di là dal confine credo ecco come detto qui le due mail in cui il sottoscritto fa presente a plenipotenziario dottor cerboni che quanto asserito dal segretario particolare del segretario di stato esteri giustizia non rispondeva a verità in quanto appunto avevo parlato telefonicamente con il professor guzzetta che mi aveva negato ogni cosa ovviamente da questo momento in avanti è partito il tentativo di intercettare lo stesso guzzetta insieme appunto all'ambasciatore e nel caso si è unito diciamo al gruppo degli avvocati l'ambasciatore vicario amerini come detto per verificare se effettivamente fosse vero o meno che era stata mandata una menzogna per iscritto da parte di una segreteria di stati esteri perché questo poi in buona sostanza è ed effettivamente è stato verificato che non si sa se il segretario di stato stesso o un'iniziativa del segretario particolare comunque qualcuno ha mentito aggiungere tanto per cambiare forse eccessivo qui invece abbiamo la conferma da parte dell'avvocato e membro del consiglio grande generale maria katia savoretti allora avvocato della segreteria degli esteri risposta resa e che ovviamente dalla quale si vince come fossero a conoscenza di ogni documentazione e per cui tutto ciò che oggi è oggetto di scandalo per cui anche i bilanci certificati in comune nonché i bilanci certificati di nuovo in comune con casse di risparmio nonché il bollettino ufficiale falsificato nel 2018 era tutto a conoscenza dell'avvocato savoretti e comunque della segreteria di stato con ovviamente le responsabilità eventuali che ne conseguono in questa mail si dimostra comunque come anche il segretario agli esteri attuali il dottor beccari sia perfettamente informato di tutti i fatti attraverso l'avvocato fattori che ha fatto questa informativa personalmente dopo aver preso accordi sempre con l'ambasciata d'italia si fa notare che forse può essere anche considerato divertente che il segretario seppur infastidito dal comportamento tenuto da davidson barra gerardi no no è tenuto da davidson il comportamento con pubblicazione continua di mail e post sui social ritenuti opportuni ha riferito che a breve avrebbe organizzato un incontro eccetera eccetera ora che una persona che dopo dieci anni di danneggiamenti subiti da e per colpa di soggetti operanti in repubblica di san marino decide di cominciare a pubblicare quanto gli sta succedendo infastidisca chi comunque ad oggi sta trattenendo assieme al suo governo dei soldi decretati come rubati da parte dello stesso tribunale dello stato di san marino mi sembra quanto meno inopportuno le valutazioni ovviamente a chi vede il video questa invece la mail che conferma come anche il segretario di stato alle finanze gatti sia al corrente di tutto esattamente nelle stesse modalità e probabilmente con le stesse responsabilità se non di più visto il collegamento diretto con banca centrale presentate dall'avvocato fattori al segretario di stato esteri beccari in questa mail questa relazione che l'avvocato fattori fece al sottoscritto e alla vittima del sopruso diciamo si evidenzia come comunque le autorità san marinesi siano assolutamente informate su ogni criticità e calcolando che questa lettera del marzo del 2021 oggi siamo ormai a metà di maggio sempre del 2021 diciamo che queste criticità nonostante nonostante possano essere devastanti non si capisce perché gli informati ancora non hanno risolto qui proseguiamo invece con quanto riguarda di qua dal confine per esempio con questa mail che è sottoscritto ricevette dall'ambasciatore cerboni che lo avvisava di essere stato contattato da alto funzionario della presidenza del consiglio italiana interessato alla soluzione del caso che comunque ha chiesto questo fascicolo senza chiedere l'autorizzazione della consegna dello stesso alla legittima proprietaria o comunque intestataria visto che il fascicolo conteneva anche perizi e medico legali insomma diciamo una certa violazione della privacy sembra essere avvenuta e questo non avrebbe comportato nulla diciamo se questo soggetto si fosse impegnato per risolvere i problemi il fatto che a distanza di un anno ancora nulla si è mosso per cui non si capisce cosa stia facendo questa persona si è chiesto alle autorità italiane anche tramite lettera di legale chi fosse questo funzionario che tanto gentilmente si stava impegnando nella causa ma purtroppo con così scarsi risultati e ad oggi il nome è ancora ignoto è normale secondo voi qui di seguito pec inviate a rappresentanti istituzionali italiani di notevole quali a suo tempo il presidente della commissione mista italo san marinese l'onorevole scalfarotto nonché al senatore salvini visto anche che due rappresentanti della lega del governo scorso erano informati ma non hanno a quanto pare dato le dovute risposte nemmeno al legale che gliele richiedeva sono tutte queste pec che non hanno ricevuto le dovute risposte o comunque a cui non pare non siano seguite le dovute denunce dei fatti vista la gravità dei reati finanziari internazionali contenutivi ecco questa per esempio è la mail con la quale l'avvocato fattori di san marino richiede ai due onorevoli leghisti e al segretario vario citati della direzione generale europea comunque del ministro del ministero degli esteri la documentazione relativa a quanto compiuto fino a quel momento anche per diciamo unirla alla denuncia in cedu che da lì a poco sarebbe stata fatta ma ovviamente come detto anche questa è stata lettera a vuoto questa è la mail con la quale la vittima del sopruso stufa diciamo di esser presa in giro a quanto pare da istituzioni bipartisan diciamo ha chiesto a mio avviso più che legittimamente un incontro con i segretari di stato della repubblica di san marino e con la presenza dell'ambasciatore italiano ma soprattutto in presenza dell'ambasciatore europeo falkenburg vista l'importanza di quanto in atto e visto che comunque il tutto coinvolge la banca centrale che comunque lavora in euro